Appena terminata la sfida di questa sera tra Esperia e Api Terme, una bella vittoria per 3-0 per cominciare il girone di ritorno. Siamo con coach Valeria Magri a cui chiediamo il tradizionale commento a fine partita. Partita tosta, come immaginavo, nel senso che sono queste le partite che avevo già anticipato e che pesano. Sono quelle che noi dobbiamo vincere, cerchiamo di vincere ma con l'idea dello scontro diretto di andarci a guadagnare l'obiettivo prefissato. È stata difficile perché c'era della tensione, però anche stasera ha vinto la squadra. Abbiamo giocato proprio di squadra anche nei momenti di difficoltà, che magari facevano fatica a mettere giù la palla, però ci siamo aiutate tantissimo. Sì, Api Terme ci ha reso un po' cara la pelle, soprattutto nel secondo e nel terzo set. Sì, loro non hanno mollato, loro ci credevano, hanno difeso, hanno fatto le loro cose, ma io lo sapevo, una squadra è ben attrezzata, fisicata, giovane. Poi ovvio che se noi giochiamo e abbiamo le nostre sicurezze possiamo dare tanto, però non è sempre facile. Infatti quando mancano queste sicurezze riusciamo a sopperire proprio con la squadra e noi adesso siamo proprio una squadra. Grazie coach, alla prossima. Ciao, ciao, ciao.